Un argomento che mi appassiona molto, tra l'altro sono domande che io faccio anche per quanto riguarda il calcio, che è la disciplina che seguo di più, però secondo me si può fare un parallelo. Il tennis di ieri rispetto a quello di oggi, probabilmente il paragone è improponibile. Io ho ascoltato anche, ho letto le dichiarazioni di Nicola Pietrangeli, tra l'altro Fognini ha trionfato 51 anni dopo Nicola Pietrangeli, che ha vinto tre volte Monte Carlo, due Roland Garros, insomma una leggenda del nostro tennis. Proprio Fognini nel 2017 in una conferenza stampa ebbe a dire il tennis degli anni 60 non era il tennis. Pietrangeli ha detto ma in realtà Fognini guadagna un milione, io guadagnavo 100 dollari, noi giocavamo sulla terra, oggi si gioca sulla luna. Guarda Massimo, io sono anche un appassionato di calcio, ti posso dire che con le dovute differenze, se vedi un match degli anni 60-70, è come vedere una partita degli anni 60-70. Vedi ritmi molto lenti, con una tecnica devo dire in quegli anni 60-70, come nel calcio e anche nel tennis, superiore. Perché oggi abbiamo la prevalenza dell'aspetto fisico, anche nel calcio abbiamo la prevalenza dell'aspetto mentale, dell'organizzazione del team, di tutta una serie di... Oggi si lavora molto sul team e sull'organizzazione, sia che si tratti di squadre di club che di squadre nazionale. Negli anni 70 si ragionava su giocatori con grande classe, parliamo del calcio, che poi tiravano tutta la squadra, pensiamo al Brasile di Pelè e via discorrendo, anche il team italiano nell'82. Se non vediamo già la vittoria della nazionale italiana nel 96, nel 2006, perdonate, è stata una vittoria della squadra, non di un singolo o di alcuni singoli giocatori. Lo stesso nel tennis, oggi l'aspetto fisico, abbiamo detto anche quello mentale, è assolutamente preponderante e quindi la tecnica. Oggi si diceva che nessun giocatore va più a rete, perché il modo di giocare a tennis non prevede, se non per giocatori che sono marziani, come Roger Federer, di giocare a rete, la voler e quant'altro. Oggi si spinge da fondo campo e il punto si guadagna da fondo campo. Uno sport che va a abbinare su questa tipologia di gioco molto la prestanza fisica e l'approccio mentale. Risposta esaustiva, mi ha convinto Luca del Federico, anche perché io sono legato agli eroi del mio tempo. Per quanto riguarda il tennis, io guardavo sempre le partite, non tanto di Borg, che però era un fenomeno, ma a me piaceva tantissimo McEnroe o lo stesso Connors. Guarda, ti invito, l'8 maggio c'è in anteprima un film molto bello su John McEnroe, che viene distribuito nelle sale italiane e da appassionati della magia del vecchio John, consiglio a tutti di andarlo a vedere. Grazie Luca del Federico. Grazie a voi, grazie a Rete8.